Ciao amici, oggi vi parlo di due ingredienti naturali dai poteri speciali. Uno è lo zenzero. Sullo zenzero ho fatto un'intera playlist. I due cibi di oggi sono limone e bicarbonato. Il limone è il re dei cibi alcalini, è un potente antiossidante. Anche il bicarbonato aiuta a mantenere il giusto pH del corpo e molto altro. Insieme hanno benefici straordinari perché potenziano le rispettive proprietà. Se volete sapere come usare questi due cibi potenti mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Simo, ma è vero che aiutano contro il cancro? Dove lo hai letto? Online e non solo si legge di tutto ma bisogna fare sempre attenzione. Limone e bicarbonato hanno tanti benefici e aiutano a mantenere un buono stato di salute. Invece per le malattie il discorso è molto diverso e non bisogna mai generalizzare, fare miracolismi o sensazionalismi inutili. Attenzione, adesso vediamo i benefici sicuri di limone e bicarbonato. 1. Regolazione del pH. Sia il limone che il bicarbonato sono ottimi per mantenere il pH del corpo nei valori ottimali necessari perché le funzioni fisiologiche si svolgano correttamente. Ci sono molti studi scientifici che dimostrano i danni causati dalla iperacidità dei tessuti del corpo, cioè quando il pH interno è troppo acido per troppo tempo. Questo causa malattie infiammatorie come artrite, artrosi, dolori, psoriasi, aumenta il rischio di infarti e ictus e anche di cancro e altre gravi malattie. 2. Dimagrire. Limone e bicarbonato aiutano il potere brucia grassi del corpo, gli antiossidanti, i minerali e le vitamine stimolano il metabolismo. Diversi studi sostengono che bere acqua, limone e bicarbonato riduce il desiderio di zuccheri e stimolanti per tutta la giornata. 3. Detox. Il potere detox di bicarbonato e limone è noto a tutti. Non a caso la naturopatia consiglia di bere al mattino acqua tiepida con il succo di mezzo limone e mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio. Questa combinazione aiuta a liberare stomaco e intestino e sostiene il lavoro di depurazione degli altri organi. 4. Sistema immunitario. L'apporto di vitamina C e antiossidanti aiuta a sostenere il sistema immunitario. Anche qui si può bere acqua tiepida, limone e bicarbonato al mattino. 5. Bruciori di stomaco. Ma se il limone è acido? Il sapore, ma non l'effetto. Il succo di limone è un potente alcalinizzante. Il bicarbonato dà sollievo immediato in caso di bruciori di stomaco, gastrite o reflusso. Bere acqua calda e limone al mattino aiuta a ridurre l'infiammazione a lungo termine. Cominciare con poche gocce di limone e aumentare piano piano finché si tollera. Ovviamente per risolvere bisogna eliminare la causa dell'infiammazione. 6. Pelle sana. Limone e bicarbonato si possono usare anche esternamente sulla pelle per renderla bianca, morbida, luminosa, tonica. Potete fare una pasta con bicarbonato, acqua e succo di limone e usarla come uno scrub naturale. L'unico accorgimento è di non esporsi al sole subito ma aspettare almeno un'ora. Vieni squaletto che li usi anche tu! Usate questi rimedi amici? Nei commenti scrivetemi i vostri successi provando questi rimedi. Per conoscerne tanti altri basta iscriversi al canale, è facile, con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Vivi bene con i rimedi della natura! Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri e the book, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!